musica musica tutto pronto ho cominciato adesso questo big match in serie C tra i ragazzi dell'FC partero per gli sto cazzo due squadre storiche del nostro torneo ci auguriamo che sia una splendida partita buon calcio a tutti Topola solito rilancio per Gramendola proprio il numero addirittura Mario 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 Mauro Sorba attenzione con lo scorpione volante la parata di Pellecchia Palla messa in mezzo re a Pellecchia che intervento occhio a Manco Sorbo che prova ad andare ancora Manco Sorbo uno contro uno con Topola Pellecchia gli dice di no che si accentra si sta concedendo qualche sortita offensiva capitaniandoli intanto Rea prova ad andare con un altro filtrante Gramendola in verticale perde Lorenzo Anastasio la risposta funizione parte Vago Sorbo Pellecchia con un bagger pallavolistico dice di no voglio un cc vicino pallo messa in mezzo in verticale De Lorenzo si fa sempre trovare presente in area di rigore e c'è il gol del vantaggio parteno che è 1-0 De Vita in verticale Rea poi Sorbo Topola solito intervento ancora di gran carriera Topola rischia da tutti Anastasio che azione personale di Mario Topola nostra è nostra sono un talpone invece Anastasio va a lungo rilancio a cercare Sorbo sul filo dell'offside Topola da dove è uscito vieni 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 occhio fuori fuori Sorbo per Sautto Pellecchia e poi Apicella con la schiena Gramendola in mezzo Anastasio nulla di fatto alla fine e allora c'è Max Sorbo che riparte in fascia destra verticale da Gesautto che va in verticale Pellecchia parata clamorosa la sua finisce qui un bellissimo primo tempo vantaggio momentaneo parteno per il reach alla ripresa Ghiandoli con il destro inaugura all'inizio di questo secondo tempo 1 a 0 parteno contro gli stocchi in questo big match vediamo questa ripresa che piega prenderà tanto guerra poi esagera ok ho ritornato attenzione rinvio sbagliato De Lorenzo scarta Anastasio poi sulla linea non proprio cinico De Lorenzo in questa occasione top al solito lungo lancio per De Lorenzo gravendola palla fuori corner si l'estate l'estate al disio Ghiandoli che destro Anastasio dei via in con palla in mezzo per Massi Sorbo vola Pellecchia salva i suoi in mezzo coppo di tacco Sautto Pellecchia Pellecchia vola corner Lorenzo prova ad andarsene sul sinistro costretto a retrocedere poi palla per Gramendola palla centrale da De Vita Anastasio Anastasio De Lorenzo ruba palla poi Anastasio colpo di tacco laterale per Ipartenope e finisce qui con la vittoria dei Partenope per 1-0 Maurizio Pellecchia migliore in campo di questo match vinto dai Partenope nel big match contro di sto cazzo 1-0 decisivo tu con le tue parate raccontacelo un po' tu che l'hai vista dalle vetrovie vabbè sapevamo che sarebbe stata una partita fondamentale per il torneo scontro diretto da ora in poi saranno tutti così ce la siamo sudata difensivamente perfetti avanti abbiamo fatto quello che potevamo grande partita veramente difensivamente davvero difficile a scavalcare anche il capitano quest'oggi sussorbo impeccabile quella è stata quella è la nostra forza insomma che non ci arriviamo mai sempre per il capitano e quello dovrà ricorrere agli strozzini per recuperare i soldi per la cena offerta l'aveva detto l'aveva detto però deve fare non ci interessa nulla boccolo per il prossimo a durar a chiamata